Quella dei migranti sia un'emergenza lo dimostrano anche gli sbarchi che proseguono senza sossa. Il centro di accoglienza di Lampedusa è di nuovo al collasso. Oltre 2000 migranti arrivati a Lampedusa in 24 ore. Con le condizioni favorevoli del mare, l'ondata degli sbarchi nel nostro paese è ripresa a pieno ritmo. Solo nella notte, con sette imbarcazioni diverse, ne sono approdati sull'isola 252. Due di loro, mentre venivano soccorsi, hanno riferito di compagni caduti in mare durante un naufragio in acque tunisine. Ancora sotto shock, non hanno saputo fornire indicazioni su quanti fossero sul barchino. È partita così la ricerca dei dispersi. Secondo le testimonianze raccolte dalla questura di Agrigento, il gruppo sarebbe salpato da Sfax, in Tunisia. E sempre da Sfax, riferisce Alarm Forna, è partita una barca con a bordo circa 40 persone, delle quali però non si hanno più notizie da ieri sera. Alla ONG avevano detto che l'imbarcazione stava per affondare. Non sono riusciti però a trasmettere la posizione con il GPS. Sempre più sbarchi e sempre più persone che affollano l'hotspot di Lampedusa. Al momento la struttura ospita 2700 migranti, quando in realtà potrebbe accoglierne poco più di 600. Ci sono anche tre tunisini agli arresti nella struttura. Sono ritornati a Lampedusa nonostante avessero ricevuto un decreto di espulsione. Per cercare di alleggerire il centro di accoglienza, la prefettura di Agrigento e la polizia hanno pianificato il trasferimento di 1740 migranti, che verranno distribuiti tra Augusta, Trapani, Catania, Porto Empedocle, Pozzallo e altre località non ancora stabilite. Non si fermano gli sbarchi neanche nei forti calabresi, dove nella notte sono arrivati 103 migranti, tra Crotone e Roccella Ionica.